Ho ragione di credere che lei una volta è stata sposata? Misericordia! No, mai! Non potevo credere che esistesse un uomo il quale volesse partecipare alla mia vita sregolata, a meno che non fosse disposto a cucinare per me ed a tenere in ordine la casa. Una volta ho vissuto con un uomo, per tre anni. Non so nemmeno che cosa gli sia successo, solo tutto a un tratto non era più lì. Sì, e si è come evaporato. Esci, mi hanno detto gli amici. Va a vedere dei posti, rimettiti in sesto, comportati come la sempre viva, la sempre curiosa, la sempre vivace e pronta Stephanie che noi conoscevamo e la quale noi volevamo bene. Ehi, divina monella! Hai fatto una lista? C'è una valigia vuota che aspetta di essere rinvita. Ora vieni a farlo! Per favore! E se non ti darei una mossa dovrai sciare nuda. I peli del pube ghiacciati sono ruvidi sulla pelle! I peli del pube ghiacciati sono ruvidi sulla pelle! I peli del pube ghiacciati sono ruvidi sulla pelle! E se non ti darei una mossa dovrai sciare nuda. Sì, ho cenato, grazie, un uovo alla coca e dei bastoncini di cotti mutati. Ma perché non mi andava di cucinare altre cose? No, l'aspirapolvere lo faccio domani. Domani, domani, l'aspirapolvere lo faccio domani. No, l'aspirapolvere lo faccio domani.